Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale, io sono Emma e oggi sono tornata con un nuissimo vlogmas. Oggi è il vlogmas numero 18, quindi buon 18 dicembre a tutti e come al solito per cosa sono qui ovviamente per aprire le caselline dell'avvento, ma oggi sarà speciale perché ci sarà una new entry, quindi vi devo mostrare due acquistini in realtà di cui uno è un calendario dell'avvento. So che comunque ho tantissimi calendario dell'avvento e me ne rendo conto, però la maggior parte sono regali di compleanno, per chi non lo sapesse io ne ho comprati qualcuno ma gli altri sono tutti regali di compleanno. Comunque sono stata da Nashargan, che è il brand che utilizzo per la mia haircare routine e anche il salone di parquet dove vado è Nashargan. E ho fatto degli acquistini, sono stata lì l'altro giorno quando mi sono fatti i capelli e ho fatto degli acquistini. Il primo è un prodottino capelli particolare perché è della linea natalizia, infatti ogni anno fanno una linea natalizia alla fragranza di gingerbread. Quindi io ho deciso di prendere questo prodottino qui che è praticamente un profumo per capelli che sa di gingerbread. Ho già quello classico e volevo troppo questo qui natalizio. Profuma proprio di biscotti natalizi, ma non che sembra che avete l'impasto sui capelli di biscotti natalizi, però ha comunque delle note proprio di profumo, che non so, non sono molto brava a descrivere i profumi, però... Cioè si sente che ha comunque altri profumi all'interno, non c'è solo gingerbread. Però proprio natalizio secondo me è proprio un bel prodotto e ovviamente potete utilizzarlo anche per il corpo. E sono super felice di questa qui, se non vedo l'ora di usarlo, penso che non sarò già da domani. E poi ho preso lui, ovvero il Beauty Secrets Calendar, che è appunto il calendario dell'avento di Nashi. All'interno ha sette caselle, quindi si apre appunto una settimana prima del Natale. L'interno è bellissimo perché è fatto tipo pacchetti regalo, posta, letterine natalizie, poi con alcune caselle in do, in oro. Mi piace veramente tantissimo. E questo qui non lo apriremo tutti i giorni, anche se in teoria appunto si apre una settimana al Natale e siamo già a una settimana al Natale, ma l'ho preso da condividere con mia sorella. Quindi aprirò una casella io e una lei e inizio io. Quindi ecco qui la casellina 1. Ok, me l'immaginavo, abbiamo trovato la mini size dello shampoo. Quindi lo shampoo classico, quindi quello lì idratante. E niente, io amo appunto i prodotti, quindi sono perfetti per il viaggio, queste mini size. Andiamo avanti con l'indoor. E il cioccolatino questa volta me lo mangio in diretta, almeno che non è fondente. Casellina 18, eccola qui. E invece ovviamente è fondente. Quindi ho trovato quello blu che è tutto fondente, sia all'esterno che all'interno. Apriamo il tè di oggi, quindi casellina numero 18. Inguer, Zitron e Manuka. Quindi abbiamo trovato zenzero, limone e Manuka, che non so cosa sia. Quello e lo zenzero sono un po' piccantini, però sono buoni e sono perfetti per la gola. Quindi ci piace, anche se non uno dei miei preferiti. Quindi casellini cibo, nì. Apriamo quello da 12 caselle. Oggi dobbiamo aprire Capricorno. Eccolo qui il gelato. È un po' mezza aperta già. Sempre azzurrina. Mi ho trovato una eyeliner pencil. Una matita nera. Sempre utile, però io non le uso. E poi questa qui l'ho sbucciata ed è veramente durissima. Andiamo avanti con quello di Balea. Casellina numero 18. Eccola qui in alto. Ieri sono caduta sui pali neri, quindi è un po' mezza aperta. Allora, la frase di oggi, che ieri mi sono dimenticata di leggere, è One kind word can change someone's entire day. Quindi una parola gentile può cambiare un'intera giornata di una persona. Questa canina invece ci piace, perché abbiamo trovato un lip and balsam, quindi un balsam e labbra alla vaniglia. Quindi un prodottino carino, che però ha deciso di volare. Eccomi tornata, so che per voi è passato tipo un secondo neanche, ma io in realtà sono andata a vedere la recita di Natale di mia sorella. Quindi sono posta di tipo ore, ma va bene così. E quindi è per questo che c'è un po' di buio, un bel po' di buio rispetto a prima. E magari l'inquadratura può essere un po' stortina. Comunque continuiamo ad aprire i calendari. Dovevamo aprire al verde. Per il momento devo dire che le caselle non sono molto soddisfacenti, a parte quella di Balea. Apriamo quindi la 18 di quello di al verde, sperando di trovare qualcosa di carino. Me la sono chiamata perché ieri ho detto di trovare, cioè che volevo trovare qualcosa di stupefacente. E ovviamente non l'abbiamo trovato. Allora, abbiamo trovato un balsamo piedi, non so il senso, non so se sia inteso come crema. Al limone. Boh, sinceramente non mi fa un po' sedere con il prodotto. Ho preferito, cioè preferisco quello al cioccolato che abbiamo trovato. Però boh, un'altra roba per i piedi. Devo dire che comunque le robe che ci sono in quello di Balea e di al verde sono praticamente le stesse. In ordine diverse, con fragranti diverse. Però più o meno è la stessa roba. Comunque apriamo Essence. Scusate, i miei capelli un po' pazzerelli. Quindi casellina 18. Ecco qui, siamo al secondo strato e la casellina è un po' grandina. Spero che ci sia un blush. Ho distrutto tutto, ma va bene lo stesso. Allora, join the feeling of groomed nails. Penso fosse una roba più bella. Ho visto questo glitter, mi sembra tipo un illuminante, un qualcosa da mettere sul corpo super glitterato. E invece, raga, è una lima. È una lima a forma di cuore, tutta glitterata. Dietro invece è normale. E ovviamente la parte che lima è quella classica, perché quella con i glitter no. Però è carina perché appunto è tutta glitterata, a forma di cuore e soprattutto perché ha la custodia. Non mi piace molto come prodotto. Devo dire che caselli di oggi stanno un po' floppando. Vediamo cosa ci regala Sephora. Quindi calendario Sephora Collection. Casellina numero 18. Eccola qui. Oggi la casellina è molto estiva, arancione, gialla con tutti questi fiori. E c'è scritto At Home Facial Spa. Una maschera. Per forza, almeno che non è un accessorio. Tipo una fascetta, così. Ma ovviamente è una maschera. E abbiamo trovato la maschera al cocco, che è nutriente. Quindi sempre di quella linea vecchia, la maschera al cocco. Super felice di averla trovata. Abbiamo trovato anguri a cocco, seme un calendario un po' molto estivo. Però mi piace, quindi ci sta. Oggi apriamo prima Asos. Proprio a guardare quale cose che abbiamo trovato. Proprio cose povere, posso dire. Vabbè, apriamo Asos, che ormai è super leggera. Casellina cos'è? 18. Eccola qui. Gialla ed è molto leggerina. E ballerina. Non ho idea di cosa cosa è, perché sinceramente. Un tubetto. Boh, apriamo. No, raga. No, raga. Vabbè. Allora, del brand This Works abbiamo trovato un Deep Sleep Peel Spray. Allora, questo prodotto ho sempre visto appunto nei video dei calendari dell'avvento delle altre persone e ne ha sempre ispirata. E adesso l'ho trovato. È praticamente uno spray da spruzzare sul cuscino, che ovviamente sa di che cosa se non di lavanda. lavanda e poi non mi ricordo cos'altro, che comunque va messo sul cuscino e ti aiuta ad addormentarti e a rilassarti. Prodotto carino, non l'ho mai provato. Boh, ci sta. Ma non è la mia cosa preferita, però appunto mi piace provare i prodotti, quindi... L'ultimo calendario, apriamo Douglas Casellina, cos'è? 18, mi dimentico sempre il numero. Eccola qui, grandicella, secondo me è Skincare. E infatti... Allora, del brand Theology, questo brand qui che è un brand che fa, da quello che ho capito, Skincare con il tè, avevo entrato la Kumbacha Tea Revitalizing Face Cream, quindi una crema con infuso di kombucha ed è fa effetto filler e anti-age. Sicuramente non è per me, quindi anche questa finirà a mia madre. E niente, quindi raga, cosine di oggi posso dire deludenti. Le cose che mi sono piaciute di più sono state il balsamo labbra che ho lanciato per terra e non so dove sia finito e lo spray se proprio voglio mettere qualcos'altro, se no io lascerei proprio anche solo il balsamo labbra. Quindi me la sono chiamata, non dirò più niente. Quindi noi ci diamo domani, 19 dicembre, col prossimo vlogmas. E domani è l'ultimo giorno più lungo di scuola che faccio, perché faccio alcuni giorni più ore, altri minore e domani è l'ultimo, quello da più ore. Quindi molto molto happy e niente, appunto, noi ci vediamo domani, alle 18, col prossimo vlogmas. Ciao!